benvenuti a un nuovo appuntamento con obiettivo sostenibilità su radio adg tv oggi parliamo di un metodo di costruzione diciamo innovativo comunque che guarda anche all'ambiente e soprattutto come dice il titolo della nostra trasmissione alla sostenibilità parliamo di case in paglia abbiamo ospite oggi con noi claudio gaiga di gaiga in gaiga che appunto è un costruttore di case in paglia buongiorno gaiga buongiorno vediamo subito questa immagine una casa che come possiamo vedere è una casa dalle sembianze normalissime come qualsiasi casa ma che è costruita in paglia quindi si può fare esiste e non è nulla di strano diciamo è già una cosa attuale e si costruisce e mi diceva gaiga si costruisce anche tanto c'è tanta richiesta e tanto interesse negli ultimi anni sì negli ultimi anni c'è stato un interesse maggiore vuoi un po per la crisi vuoi un po per la vicinanza all'ambiente negli ultimi anni abbiamo avuto molta richiesta su questa tipologia di case si fa si fa già funziona benissimo come ha detto lei giustamente non si vede che è una casa in paglia ma ha le sembianze di una casa tradizionale ma in verità i muri perimetrali sono fatti con legno e paglia esatto e come lo vediamo anche in queste immagini che intanto scorrono ma facciamo un passetto indietro mi diceva è iniziato a parlare a lei a interessarsi a questo settore delle case in paglia una decina di anni fa mentre lavorava nel settore dell'edilizia tradizionale diciamo e quindi come è partito questo interesse e come era anche dieci anni fa e come oggi invece il settore che evoluzione ha avuto ma allora sì io arrivo dall'edilizia tradizionale mi ha sempre incuriosito vedere capire studiare altri metodi costruttivi con materiali diversi dal classico mattone finché a un certo punto in una foto sul giornale ho visto questa foto di una casa in paglia e da lì è partito tutto mi si è aperto un mondo la curiosità è stata tanta ho fatto una ricerca poi ho trovato persone che qui in italia già costruivano e ho iniziato anch'io a capire a fare dei corsi di andare a vedere come le facevano aiutare in alcuni cantieri poi piano piano sono partito anch'io con le mie costruzioni da dieci anni diciamo che quasi dodici anni a questa parte l'interesse è aumentato è aumentato tanto all'inizio erano più i curiosi che venivano per vedere perché sembrava la novità invece le case in paglia già si costruivano alla fine del 1800 e tuttora sono case abitate e quindi appunto prima erano più i curiosi poi invece adesso arrivano proprio le persone interessate che già conoscono la materia e quindi con loro si può già realizzare si può già fare di più e mi diceva che in questi anni ovviamente anche fatto un percorso di di studio di elaborazione delle migliori tecniche ma proviamo ovviamente in parole semplici poi ovviamente c'è un mondo nel suo caso ci sono dieci dodici anni di studio di lavoro ma in poche parole quali sono i passaggi e come si arriva a fare costruire una casa dei muri partendo da paglia legno e insomma cose che possiamo vedere tutti i giorni e non penseremmo che che possono diventare messa insieme una casa ma allora noi siamo partiti prima si costruivano si costruiva la struttura portante quindi pilastri sempre comunque in legno mai con il calcestruzzo perché la filosofia deve essere comunque tutta lineare diciamo e poi venivano inserite le ballette le ballette di paglia proprio le ballette rettangolari che trovi da un agricoltore e noi a un certo punto abbiamo detto ok la cosa deve essere intanto più veloce deve essere più che si può garantire il lavoro che andiamo a fare allora abbiamo studiato e ingegnerizzato questo sistema di pareti prefabbricate quindi strutture in legno autoportante con inserite all'interno queste ballette pressate a una certa maniera e quello è stato il primo step il step successivo è stato quello di aggiungere dell'intonaco nella parte esterna quindi dal nostro stabilimento capannone escono le pareti prefabbricate autoportanti e preintonacate all'esterno e poi c'è stato un ulteriore passaggio quello di inserire già gli impianti o fare i cavedi per gli impianti idraulici elettrici e quello è stato un altro passo successivo dieci anni dovresti rimanere qui un po' di più a raccontare però l'evoluzione diciamo la sviluppa ricerca comunque sta continuando ancora certo una uno sviluppo una ricerca riconosciute anche da delle certificazioni che avete avete ricevuto sul vostro metodo costruttivo corretto sì allora la prima che abbiamo fatto proprio agli inizi ancora dieci anni fa è stato quello di capire quanto effettivamente isolava quanto effettivamente isolava questo muro di che sono stiamo parlando di un muro di 35 40 centimetri al grezzo diciamo arriviamo quasi 50 finito e era capire appunto quanto isolava questo muro siamo andati in un laboratorio di schio a vicenza e gli abbiamo fatto il test e diciamo detta un po' velocemente così i nostri muri al grezzo sono già paragonabili anzi sono già in classe a quindi uno parte già con una casa in paglia al grezzo già in classe a la successiva certificazione era quella perché appunto sono curioso mi faccio tante domande voglio capire quello che sto facendo capire per me ma anche poi per dire al cliente effettivamente dar prova di quello che facciamo era quello di dire ok io faccio una casa naturale con la paglia con materiali con l'argilla con la calce ma effettivamente la paglia che io utilizzo quanto naturale è? perché come sappiamo tutti nelle case abbiamo sono composte da tanti materiali che emanano sostanze volatili nocive chiamati voc che sono nocive per l'uomo e la paglia si è naturale ma volevo capire effettivamente quanto alla fine era naturale siamo andati o meglio abbiamo mandato dei campioni all'eurofins in danimarca abbiamo ottenuto la massima certificazione per quanto riguarda questa tipologia di un ulteriore conferma della sostenibilità salubrità di questo sistema costruttivo poi un altro passaggio è stato quello di dire ok abbiamo tutti questi materiali li mettiamo insieme ma effettivamente funzionano veramente quanto funzionano allora abbiamo preso l'intero sistema costruttivo quindi non solo la parete quindi dalle fondamente i muri solaio tetto tutto l'intero sistema costruttivo l'abbiamo dato in mano all'istituto Zephyr Passive House d'Italia il quale dopo un percorso di due anni ha certificato l'intero sistema costruttivo secondo i parametri Passive House che sono che poi alla fine sono parametri che vanno bene a livello internazionale quindi non solo a livello italiano e ad oggi diciamo siamo gli unici ad avere un sistema costruttivo in paglia certificato in Italia in Italia quindi un ulteriore conferma che il percorso di questi 10-12 anni insomma è stato messo a frutto nel migliore dei modi in breve quali sono i vantaggi di una casa costruita in paglia dicevamo sicuramente la proprietà di tenere fresco d'estate e caldo d'inverno giusto? quello poi sono veloci da costruire perché anche sono veloci da costruire perché anche 100-200 metri quadri di casa in pochi giorni li assembli, li costruisci è un sistema secco quindi hai poco utilizzo di acqua, è ecosostenibile perché utilizziamo materiali come la paglia, la calce, l'argilla che sono materiali che dopo tra l'altro troviamo tutti gli anni non è che dobbiamo battere una foresta per costruire una casa la paglia la troviamo tutti gli anni e soprattutto appunto in un periodo diceva prima poco utilizzo di acqua che in un periodo come questo dove tanto più si parla di siccità di non sprecare l'acqua se tanto più non viene utilizzata o utilizzata in minima parte insomma in queste costruzioni è ancora un ulteriore vantaggio a proposito di paglia c'è anche un progetto di arrivare a una paglia con una filiera completamente controllata giusto? si giustissimo è il prossimo passo che faremo già lo stiamo mettendo in atto per dare appunto garanzia al cliente di tutta la filiera noi abbiamo deciso di fare un lavoro che in verità porta più benefici in verità perché attraverso un ragazzo che coltiva i grani antichi in Lessigna abbiamo deciso di coltivare in Lessigna questi grani quindi a un certo punto ho detto guarda a te serve il grano a me serve la paglia mettiamoci insieme e quindi adesso andremo a coltivare noi stessi andremo a coltivare la paglia che utilizzeremo poi nelle case nelle nostre case in paglia tra l'altro paglia biologica ecco quindi è interessante anche questo che dai grani antichi arriva il futuro dell'abitare insomma è proprio un ciclo veramente interessante anche il ciclo costruttivo appunto ulteriormente certificato a livello anche internazionale sicuramente un bollino di qualità per questo metodo e quindi ringraziamo Claudio Gaiga che ci ha raccontato cosa significa costruire case in paglia tra l'altro in Lessigna quindi un ambiente assolutamente che insomma ci tocca da vicino anche per quanto riguarda la sostenibilità e la bellezza quindi un ulteriore punto in più grazie ancora per averci raccontato questa modalità di costruire più in sintonia con l'ambiente grazie a voi e allora si chiude questa puntata di Obiettivo Sostenibilità grazie per averci seguito grazie a tutti